Ciao Leone, allora adesso andiamo a vedere le previsioni per il mese di maggio per il tuo seno zodiacale. Partiamo subito. Per il segno del leone. E questo è la mia prossima per gli miei. Prendo anche l'altra. Ok, vediamo l'ultima carta. Tra l'altro non si è visto, questa è una pietra nuova ed è a forma di cuore sopra. Super carina. Ok. È tipo in pandan con questa. Mi piaccia tantissimo. Ho visto questo qui. Ok. Adesso andiamo a prendere gli oracoli. Vediamo. C'è altro? Sì. Ok. Allora. Vediamo subito per il leone come sarà il mese di maggio. Allora andiamo a vedere la prima carta. L'accoglienza. Poi. La distruzione capovolta. Quindi può essere un qualcosa che ritorna, una situazione che sia giusta o qualcosa che è andato storto e che magari va meglio. La scelta. La scelta. La paura. Che tra l'altro l'hanno fatta bellissima questa carta perché non siamo i soli. C'è anche la luna. La luna mi fa pensare al segno del cancro. Ma vabbè. Magari ci entra con questa. Non lo so. Questo è l'equilibrio capovolto. Ok. Allora vediamo se le vedete bene tutte. Un po' più qua. Paura. Questo è l'equilibrio capovolto. Ok. Andiamo a vedere queste adesso. Avere le unghie lunghe. Be like. Fai tutto in giro. Per prendere la carta. Allora. Legge del nome. Se non sai chi stai vivrai di luce riflessa. Grazie a leggere il nome puoi fabbriare la tua autenticità nel mondo. Quindi questa la mettiamo qui. Poi vi spiego perché io le metto sempre associate. Mi trovo meglio. Ma con le pietrine le vedete meno. E allora facciamo così. Dovresti. Ok. Molto bene. No vabbè. Qua è uscita la carta dell'equilibrio. Capovolta. E qui dice dell'equilibrio. Adesso comunque andiamo a vedere cosa ci chiedono. Molto più forte di quello che credi. Agissi con la legge dell'equilibrio. Ti tratta essere la tua prima priorità. Infatti qui parlava anche di scelta. Ma. Vabbè. Mettiamo sempre qui la via di mezzo. Vediamo l'ultima. Trasformazione. Ok. Triunfo. Giunto il momento di aprire il successo. Accoglie ogni trasformazione con fiducia e gratitudine. Stanno per arrivare ai cambiamenti felici. Questa la mettiamo qui. Associata a questa. Allora. Leoncino. Leoncino. Io qui vedo che si parla di te. C'è proprio di te in prima persona. Non vedo annessi. Non ci vedo sinceramente neanche troppo delle persone collegate a questa stesa. Vedo più magari delle situazioni ecco che potrebbero vederti coinvolto o coinvolta con ciò di cui si parla. Ma persone esterne a te non mi viene da pensare a quello. Allora questa prima carta di accoglienza potrebbe parlare di come si può aprire il mese di maggio per te. Quindi magari con una prospettiva e una mentalità diversa rispetto a quella che c'è stata in passato. Oppure magari tu accoglierai qualcuno di nuovo nella tua vita. Una nuova situazione. Una nuova opportunità. Mi fa molto sorridere che questa pianta che... C'ho il nome di questa pianta sulla punta del lingua ma non mi viene in mente che sono quelle viola che ci sono anche adesso in questo periodo. Comunque questa... Questa pianta qui è riportata anche qua vedi. La stessa pianta... Non mi ricordo il nome vabbè. Quindi tante volte noi facciamo un passetto indietro no? Perché abbiamo paura di ciò che ci aspetta e quindi piuttosto di ci... Facciamo questo passettino indietro no? La distruzione capovolta come ti accionavo prima potrebbe rappresentare... Un qualcosa che ritorna. Tu che ritorni su alcune tue scelte. Qui si parla di scelta. Su alcuni tuoi passi. Tu che cambi idea. Oppure come dice anche questa carta una vera e propria trasformazione. Quindi magari proprio qualcosa cambia. Qualcosa che magari in passato, essendo come seconda carta... Questa fascia qui, diciamo, delle carte di solito si può anche riferire a quelli che sono le difficoltà. Che avverranno gli ostacoli. E questa è la conclusione, diciamo. Questo è l'inizio, lo sviluppo, più o meno così. Qualcosa cambia. Però sento che c'è come una mancanza di fiducia. Come se fossi magari... Forse un po' demotivato. Un po' demotivata. Come se magari... Non sai bene che strada prendere. Perché l'equilibrio capovolto mi fa pensare a tu che hai magari molte idee. Perché il leone ti è sempre sul pezzo. Però magari... Anche verso questa fine di aprile. Ti trovi a vivere un momento un po' così che ti ha destabilizzato. Magari una notizia che non ti è piaciuta. O che non si è comportato nel modo in cui tu avresti voluto. No? Ecco, la paura. Come ti ho detto prima. Vedi, non è mai sola. Quindi, se per caso è questo che ti spaventa, non devi averne. Anche perché ti viene detto che... Tu hai molto più potere di quello che credi. E la luce è dentro di te. Ma... Devi essere tu in primis a crederci, no? E questo equilibrio capovolto mi fa pensare... A tu che non riesci a capire... Quale strada prendere. Infatti la scelta te la mette come carta centrale, no? Ma ti è neanche detto che sei tu l'ago della bilancia di queste situazioni. Sei tu che sai cosa fare. Solo che c'è un po' un momento di destabilizzazione. Né caos, né distruzione. Destabilizzazione. Un momento un po' come quando sei a scuola e la professoressa ti dice... Se vado a prendere il caffè... Ecco, tu sei in quel momento in cui stai prendendo il caffè, no? E stai cercando di capire... Come proseguire, come agire, no? Potrebbe venire anche qualcuno in aiuto. Mi viene da pensare a una figura femminile, viste queste due, ma non è detto per forza. Potrebbe essere che nel mese di maggio ci sia qualcuno che magari tu non pensavi, non ti aspetteresti che però ci sarà per te. Ti tenderà una mano, anche magari con delle azioni che tu non avresti mai pensato in vita tua. Che questa persona avrebbe potuto fare nei tuoi confronti. Ma soprattutto vedo sempre molto te protagonista. Per questo ti ho detto non sarà semplice leggerti questa stessa. Perché quando si parla di se stessi sembra che sia facile. Sembra che in poco tempo ne parli. In realtà è proprio il contrario. Assolutamente no, non è facile. Comunque, per ora mi sento di dirti questo. Non è un mese triste. Non è un mese super felice. È un mese molto riflessivo quello che ti aspetta, secondo me. Di lavoro verso te stesso o te stessa. Per aiutarti un attimo a capire meglio ciò di cui abbiamo parlato oggi, ti consiglio di andare a vedere il tuo ascendente, la tua luna. E se vuoi anche venere, ma comunque il tuo ascendente in primis, chi ti aiuterà a chiarire. Io per esempio sono acquario, ascendente gemelli. E quando guardo questa tipologia di video, guardo sempre prima il video dell'acquario. E poi per chiarire certi concetti che non ho capito, mi vado a guardare anche il video dedicato ai gemelli. Un abbraccio, un bacione e ti aspetto al prossimo video. Ciao. Fammi sapere ovviamente perché ci tengo un feedback rispetto a tutto ciò nei commenti. Qui sotto. Ciao. Ciao. Grazie.